benvenuti in questo nuovo video vi mostrerò come avere gratuitamente del credito da spendere sul google play store l'app che trovate in descrizione che è questa qui ed è un'app ufficiale di google vedete in questo momento io ho guadagnato 8 euro e 24 e ci verrà chiesto di fare dei sondaggi anche su posti magari che abbiamo visitato i sondaggi arrivano in maniera random non sono sempre uguali però vedete questi sono i risultati per spendere poi il credito basta ghiacciare qua play store entrare con l'account e scegliere o usare il credito anche per pagare netflix o applicazioni del genere ad esempio vi faccio vedere ma non la comprerò quando noi andiamo a cliccare su 89 centesimi vedete dove possiamo usare il nostro saldo per comprare l'applicazione giamento.com iscriviti al nostro canale questo è tutto se vi è stato utile a questo video lasciate un like e iscrivetevi per i prossimi video